Allora, e ancora un'altra volta, come? Cento volte? Quante volte sono ormai? Abbiamo sempre un imprevisto! E quel che d'imprevisto ci fa sbagliare? Un'altra volta non abbiamo fatto il filo! E quindi io sono molto arrabbiato, è vero André, e tu? E sto facendo un prezzo di filo! Dai, rimetti qua il figio spinner come ieri? Avevo fatto ieri il video, quando l'avevamo fatto stamattina! Ma stamattina? Ma scusa, avevo chiesto in chiesa! Quindi ragazzi allora, la prima volta meteo! Ma che metterai di titolo a questo video? Perché io non saprei più più che mi metto! Io di titolo? Lui sai che cosa metto? Porca puttana quando siamo sfigati! Ma mi mettemmo la mia mano da me! Poi, ora ve lo racconto io con cose successorie! Allora, visto che avevamo detto Andiamo a casa di Luca, e poi avevamo detto Andiamo, poi quando siamo saliti su Ho cominciato il video! Io stavo a fare anche il video che sarebbe quando noi registravamo Io stavo così vicino al camporello No, praticamente! Inguadra la mia pagina! Inguadra perché? Piii! E quello non rispondeva! Poi praticamente avevamo deciso! Avevamo deciso! Visto che quel maledetto Luca Avevamo deciso! Pensavamo che stava al campetto! Andiamo a casa mia! Così almeno mi spiego un po' le cose di Youtube Mi scarica un'app che serve E ti faccio la intro! Buona! Non come quella che hai registrato! Oh oh! Perché l'ho detto! Vabbè! Non ti arrabbiare! Andrita! No! Non mi arrabbi! Tanto si capiva che l'avevi registrato tu! E allora stavo dicendo Poi praticamente siamo scesi giù E vicino Vicino a una casa di nostro amico Abbiamo incontrato Ah è vero A Luca A Lucca Con Antonio E con Antonio Con Antonio Con Antonio Con due Antonio che sono Salute Antoni Salute Antoni Salute Antoni Poi Se andavano e hanno detto Noi dobbiamo andare giù a pallone Io quando sento andiamo giù a pallone Questo è andato a giocare a pallone E invece noi dovevamo fare il video E io mi sono ingazzato con lui Con me mi sono ingazzato Però non sono ingazzato con lui Solo per prima Quindi No dico Ma che è quello? Che è? Che schifo? Lì è colpa mia C'era una cosa perché era schifosa Ma... Poi dico I amici quelli là Poi... Mamma mia A me Luca pure mi fanno ingazzare Sì e quindi Ancora una volta Ciao a tutti amici Abbiamo fatto Aia Quindi ciao 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 Ci vediamo un altro giorno Il mio gesto spinner è ingazzato Vuole dire le ultime parole Ok Finiii Ciao E ci vediamo un altro video Quindi iscrivete Nenni Ciao Ciao